Facciamo il punto sui nuovi criteri e sulle modalità di definizione dei prezzi dei medicinali con cui queste cose ovviamente le conosce molto bene, cioè con Nicola Magrini, direttore generale di AIFA. L'abbiamo incontrato qui a Catania per la ventesima edizione della conferenza sulla farmaceutica. Dottor Magrini, nella sua relazione qui a Catania lei ha parlato della governance e di come appunto riuscire a tenere tutto sotto controllo. Ecco ci dice qualche cosa? Ho parlato di governance farmaceutica per mostrare le azioni molteplici, varie, che si devono anche attagliare a ogni situazione specifica. Non c'è una regola generale per diciamo così risparmiare o avere i prezzi migliori, ma azioni diverse o diversificate a seconda della tipologia di farmaco, a seconda del grado di innovazione a seconda di disponibilità o meno di alternative valide. Quindi ho voluto mostrare in particolare che ci si deve muovere innanzitutto per favorire l'accesso e rapido alle terapie più efficaci e che la sostenibilità deve essere una conseguenza di queste azioni perché il sistema sanitario in Italia ce la fa ancora abbastanza bene a garantire un accesso eco e universale alle cure. Senti, il prezzo di un farmaco dovrebbe riflettere innanzitutto il suo valore, che poi diciamo così l'attività che svolge la CTS. Come si stabilisce oggi il valore di un farmaco alla luce appunto anche delle nuove normative, del nuovo regolamento di AIFA? La ringrazio di questa domanda perché effettivamente così è il valore di un farmaco, la guida anche per la definizione del prezzo, anche se ci possono essere sia eccezioni sia a volte farmaci che sfuggono a questo meccanismo per tanti motivi. Detta in breve, il valore di un farmaco o quella che si può anche chiamare innovatività corrisponde in generale alla sua efficacia. Tanto più un farmaco è efficace o straordinariamente efficace perché abbiamo avuto farmaci, ricordiamo i farmaci per l'epatite C, in grado di guarire, non solo curare, il 98%, quindi pressoché tutti i pazienti trattati. Il valore è questo e il prezzo deve essere una conseguenza favorevole sia per il produttore che per il sistema che ne garantisca la piena sostenibilità. I farmaci però toccano ambiti molto diversi, quindi quelli per le malattie rare possono anche costare a volte una fortuna e questo è più ragionevole e accettabile per quei farmaci che possiamo chiamare trasformativi e molto importanti. È più difficile o più complesso da accettare come un prezzo standard molto elevato e quindi sono anche allo studio a livello internazionale, di nuovo perché il farmaco è un mercato fortemente globale, molto regolato e sono quindi allo studio anche nuove modalità contrattuali, in particolare per gli antibiotici o per alcuni farmaci rari, di cui in parte abbiamo accennato anche qua, perché probabilmente il modello del trovare solo nelle vendite l'unica fonte di ritorno economico è un modello che può essere forse superato da approcci migliori. Quindi l'azienda può essere aiutata nella fase di sviluppo per esempio di fronte appunto a un farmaco che si propone per la cura di una malattia fino ad oggi non curabile? Quelli sono incentivi, incentivi economici. Io mi riferivo anche più specificamente al fatto che da diversi anni per gli antibiotici, per avere un incentivo ad avere un antibiotico nuovo, questi incentivi verranno dati i primi per la scoperta, ma una volta disponibile, se abbiamo un antibiotico che vuole essere usato in maniera molto mirata e quindi poco, dobbiamo trovare forme anche contrattuali per i quali si è assicurato una fonte stabile di ritorno per non essere usato. Ci sono andati anche modelli di tipo assicurativo, un ospedale si assicura concettualmente al fine di poter usare un antibiotico che tiene in frigo ma non usa se non in casi eccezionali. Ecco, credo che queste siano formule di grande interesse che potrebbero garantire anche una migliore sostenibilità del sistema. Sento, dottor Magrini, un'ultima domanda. Di fronte appunto alle terapie che stanno arrivando sempre più numerose come le CAR-T, come le terapie geniche, appunto farmaci estremamente costosi e per i quali non sempre ci sono tutte le evidenze necessarie, come l'ente regolatorio, come si pone. Le terapie mirate anche per i farmaci oncologici, quelli che vanno a bersaglio molecolare, insomma il panorama è molto ampio. Il panorama è molto ampio ma certamente l'oncologia e l'ematologia sono gli ambiti in maggior espansione e sviluppo. Quasi la metà dei farmaci registrati riguarda l'area oncologica ed ematologica. L'area ematologica ha avuto straordinari progressi e le immunoterapie in generale hanno creato un nuovo modello di cura. Per quanto riguarda anche le terapie CAR-T, ci andiamo attrezzando con un nuovo comitato etico nazionale che si occupi di questo, favorire un maggior accesso anche attraverso forme di sperimentazione che possono comportare sostanziali risparmi e la fase, come ha detto, di incomplete conoscenze quando il farmaco arriva prematuramente può essere completata o con ricerche pubbliche o con ricerche congiunte, anche pubblico privato, per avere una migliore capacità di controllo anche dei costi che sono effettivamente molto elevati. Abbiamo i registri AIFA proprio per quello, no? I registri sono oggi anche un po' più riconosciuti e forse un pochino più amati, anche perché li abbiamo resi un po' più snelli e sono certamente un modo per capire meglio, per registrare ciò che accade e anche per un ritorno informativo che possiamo dire altri paesi non hanno fatto questo investimento e oggi vediamo che quella fonte di dati è a volte pregevole. Bene, grazie Tom Agrini, complimenti per il vostro lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.